Si è appena concluso l'importante incontro in Via Gesù a Milano tra il Presidente della Repubblica dell'Uzbekistan e il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, numerosi i temi toccati, ascoltiamo il Presidente Fontana. Presidente, intanto com'è andato l'incontro di oggi con il Presidente della Repubblica dell'Uzbekistan? È stato molto positivo e direi si è basato su quella che è una dote comune, la concretezza. Anche il Presidente Uzbekistan è estremamente attento a proporre temi concreti e a cercare di risolverli in un modo migliore. Mi ha fatto molto piacere che abbia deciso di passare una giornata del suo viaggio in Lombardia e che proprio qui abbia voluto incontrare il mondo imprenditoriale. È un segnale che ci fa molto piacere. Lombardia, partner privilegiato. Lombardia, sicuramente partner privilegiato. Sicuramente riusciremo a portare avanti tante iniziative che sono già iniziate con le nostre università, con i nostri imprenditori. Al termine della riunione abbiamo anche ascoltato l'ambasciatore dell'Uzbekistan in Italia, che ha definito l'incontro molto importante ed ha parlato di un dialogo intenso con la Regione Lombardia. Lombardia. Autore dei sorrisi